Buon pomeriggio a tutti, siamo qui nel caffè di NEP Coffee Book, siamo alla quarta puntata, sono in compagnia di uno scrittore che non è sicuramente uno scrittore emergente per le file di NEP Edizioni in quanto ha già pubblicato con noi parecchi libri, il suo nome è Gino Carlo Magno, benvenuto Gino, ben arrivato qui con noi. Grazie, ben trovati, spero tutti bene. Infatti ce lo auguriamo tutti. Allora Gino, io per presentarti e per presentare l'opera che oggi andiamo a raccontare ai nostri amici vorrei leggere quello che io ti ho scritto dopo aver letto il tuo libro quando mi hai mandato qualche mese fa la primissima bozza. Oggi voglio iniziare in questo modo un po' diverso dal solito perché sono particolarmente legata a questo libro e credo che l'impressione che ha dato al mio cuore la prima bozza leggendola potrebbe essere uno spunto, un modo per invogliare chi non ha ancora fatto a leggere questo libro e la leggo così la condivido un po' con chi ci sta ascoltando. Caro Gino, voglio mettere nero su bianco quello che ho provato leggendo qui in Meri, un romanzo che inizia lentamente. Il lettore quasi non riesce a comprendere le fila di un discorso o meglio di un percorso che l'autore vorrebbe fargli fare e nonostante questo vi è un piglio che sin dall'inizio incuriosisce. L'autore non molle il lettore e pian piano l'accompagna fino alla quindicesima ventesima pagina del libro, laddove accade un qualcosa per cui chi legge non può fermarsi. L'empatia con i protagonisti permette di versare le lacrime di commozione quando viene raccontata la vicenda scolastica di Maria Regina che da ragazzina diventa una donna, oppure quando emergono i sentimenti puri dell'amicizia e dell'affetto fraterno tra compagni. Il lettore sorride delle scorribande di un quartetto di amici e teme per loro quando gli eventi diventano più complicati con il crescere degli anni. Una morte, un delitto o un episodio accidentale, un fatto. La storia prende una nuova piega ma non lascia quella supremazia dei sentimenti che pervade ogni pagina. Il protagonista però è uno solo, indiscusso, l'amore. L'amore fra la protagonista e il giornalista, un amore rispettoso e professionale. L'amore fra gli amici, la pure e propria amicizia. L'amore incondizionato di due genitori che seguono ovunque la propria figlia e la famiglia. L'amore fra un uomo e una donna che supera le barriere fisiche, economiche e spazio-temporali. Beh, questo è l'amore con la A maiuscola. E infine la misericordia e l'amore che diventa fede in Dio. Queste pagine raccontano l'amore nelle sue varie sfaccettature e determinano la perfetta risoluzione del giallo, lasciando tutto compiuto e altresì completo. L'umanità dei protagonisti, la loro evoluzione intellettuale, permette al lettore di medesimarsi, di simpatizzare per loro e di crescere con loro nel buon senso. Il libro non è una mera lettura scarna e fine se stessa, è un vero insegnamento cristiano. Grazie Gino, la tua amica Milena. Ebbene, ho voluto condividere con i lettori un po' questo scambio anche forse privato e intimo che abbiamo avuto, però l'ho voluto fare perché penso che sia il modo giusto per presentare questa tua opera un po' diversa da tutte le altre. Ma adesso, prima di arrivare a Queen Mary, che è il titolo del libro appunto che presentiamo, Gino, dici un po' chi sei, parlaci di te e come sei arrivato ad essere uno scrittore. Presentati un po' ai tuoi lettori. Allora, la prima cosa devo dirti, ti ringrazio che hai letto questa bella prefazione, questa recensione che mi hai fatto, molto bella e molto anche centrata nel tema del libro. E mi hai anche un po' commosso, devo dirti la verità. Io poi sono anche facile. Con la lacrima facile. Sono facile. Sono facile alla commozione. Chi sono? Sono un uomo, come vedete, abbastanza avanti con gli anni, ma che la passione dello scrivere mi sembra stata nella penna. A volte dalla penna è passata al cassetto e poi grazie, grazie a voi, grazie a Neppe Edizione, questo non crederò mai di ringraziarvi. Sono riuscito a vedere le mie opere pubblicate e questo mi fa un piacere immenso. Normalmente, tu lo sai perché sei il mio direttore editoriale, io scrivo o romanzi o polizieschi. Ho creato quel personaggio di Giorgio Gregori, questo ispettore umano che fa le indagini secondo un suo metodo tutto particolare, che sfrutta piccolissimi dettagli per arrivare alla soluzione e su quello, diciamo, che abbiamo creato una serie di vicende. Sì, abbiamo creato una serie di romanzi. Questo qui, devo dire la verità, è un libro che, non lo so, è nato sicuramente per volontà di qualcuno che mi vuole bene, di qualcuno di lassù, non lo so, perché ne ho avuto la coscienza di scriverlo così, proprio come se fosse arrivato un messaggio, come se uno mi avesse toccato sulla spalla e mi ha detto, Gino, devi scrivere questo libro. La cosa strana, ma questo lo dico così perché ci tengo proprio a dirlo, la cosa strana è che mi è arrivato in sogno questa cosa e la mattina come mi sono alzata, la prima cosa che ho scritto, il titolo, perché il titolo proprio mi è stato, tu devi scrivere questa storia. E lo vogliamo dire qual è il titolo, perché in realtà ho letto, ho detto Queen Mary, ma ha un sottotitolo particolare che caratterizza… Il sottotitolo particolare, Queen Mary, ecco, poi lo spieghiamo magari, Queen Mary è così perché la ragazza poi, questa donna, ma il vero titolo è Queen Mary, una donna coraggiosa, Regina Maria, una donna coraggiosa. E questo nome, Regina Maria, quando lei si trova a dover andare in America per lavoro o meno, gli americani sono così, immediatamente gli hanno cambiato il nome. L'hanno americanizzata. Americanizzato, Regina Maria è diventata Queen Mary. Queen Mary. Ma per un, diciamo così, proprio per l'indola americana che fanno queste cose. Ma lei è rimasta la Maria Regina, Maria Regina nata a Otranto, in Puglia, cosa che a te farà sicuramente piacere. Assolutamente sì. In un posto bellissimo che sono le scogliere del mulino d'acqua. Il mulino d'acqua. Che sono belle cose. È di lì nasce questa storia. Regina Maria nasce in una famiglia medio-borghese, diciamo di, non agricoltore, ma di contadini con un'azienda abbastanza fiorente che produce dall'olivo al vino, agli ortaggi, comunque con un certo benessere, in una famiglia, diciamo, un po' come si usava una volta, patriarcale, con buona educazione, con l'insegnamento dei valori. E di lì, poi, purtroppo, diciamo, non purtroppo, per una vicenda così spiacevole, mi capita un handicap che la vede costretta a prendere in mano la vita in modo diverso, ma, dato che il sottotitolo non è a caso, è una donna coraggiosa, riesce a superare qualsiasi ostacolo perché... Infatti, probabilmente, quell'handicap non è diventato per lei un limite, ma piuttosto un modo per andare oltre un confine, perché ha avuto la forza e quel coraggio di poter superare alcune barriere che la vita gli ha dovuto mettere davanti e poter andare oltre, raccontare e far vibrare la sua vita in maniera diversa. Proprio questa è la chiave diversa del romanzo, insomma. Senti, Gino, ma i tuoi libri, l'hai accennato prima, hanno sempre un unico grande protagonista, che è quello dell'Ispettore Gregori, ok? Sì. E in tutti i tuoi racconti polizieschi che abbiamo pubblicato, perché sono tanti, i lettori, coloro che conoscono Gino lo sanno, è una penda molto, come si dice, instancabile, è insaziabile e instancabile. Però in questo romanzo direi quasi che l'Ispettore risulta essere un cameo, quasi non l'abbiamo voluto lasciar fuori, ce lo siamo tenuti stretto, racchiuso in una parte del libro, coccolato, ma non è il vero protagonista, giusto? No, no, non è un classico poliziesco, anzi di poliziesco a poco. Giorgio Gregori entra in questo romanzo, come ho detto prima, con la sua umanità, con la sua capabilità, comunque riesce a risolvere un problema che per molti era stato accantonato e lui riesce a risolverlo, ma ne rimane comunque solo ai margini. E fa una bella affermazione finale nel libro, fa una bella affermazione finale, si rende conto di aver vissuto anche lui questa storia, molto realistica come storia, molto vicino all'umanità di oggi, e fa una bella affermazione con la promessa che un giorno l'avrebbe poi raccontata eventualmente ai suoi nipoti. Ma il romanzo, diciamo, l'ispirazione del romanzo è proprio come questa donna, con quale coraggio riesce a superare la sua difficoltà, orto semis, lei prende la difficoltà e la tramuta in fiducia, amore e addirittura ringraziamento, perché ringrazia addirittura di non essere abile al 100% come gli altri, ma di avere la capacità di diventarlo con la capabilità e con l'amore. E questo riconosce in qualcuno che gli dà questa forza e lo esprime. Oddio, non vuole essere un libro, diciamo, catechistico. No, lui dira questo, assolutamente. Io non so se è azzardo nel dire quello che sto per dire, questo libro, avendo seguito Gino sin da qualche anno fa quando ci siamo conosciuti, lui, vi racconto un attimo, ha iniziato anche con un libro che era totalmente diverso, dei libri rivolti ai bambini, delle fiabe scritte con la sua nipotina, poi ha raccolto in un altro libro una serie di scritti quasi diaristici e poi ha iniziato con questi polizieschi. Quando mi è arrivato questo libro, qualche mese fa, in realtà ho notato sin da subito che sarebbe stato un libro diverso ed io vorrei azzardare oggi, neanche Gino lo sa, io e Gino ci sentiamo spesso, ma neanche a lui l'ho detto. Mi piacerebbe pensare questo libro quasi come un tuo manifesto di scrittore. Sai quando nell'Ottocento, nel Novecento, gli scrittori, gli artisti, avevano un'opera che potesse simboleggiare proprio il proprio manifesto, cioè la propria linea guida. E non so perché mi è venuta in mente stamattina questa cosa, pensando un po' alla nostra chiacchierata di oggi, però penso che questo libro abbia tutti gli ingredienti che io ritrovo nella tua personalità. Noi conoscendoci un po' nel tempo abbiamo imparato anche a conoscere quelle bellezze l'uno dell'altro, come si fa nell'amicizia. E io credo di poterlo affermare. Questo libro raccoglie tutti quei valori, quelle dinamiche di vita, che secondo me per te potrebbero essere fondamentali. Correggimi se sbaglio e a te la parola. No, 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 non sbagli e non ti correggo. Aggiungo solo una cosa. Dopo di questo libro sto scrivendo altro, ma ho molta difficoltà. Ecco. No, ecco, anche per me il paragone di quello che ho scritto, di quello che sto tentando ancora di scrivere, perché poi approfitto anche della quarantena per non farmi annoiare, per non annoiarmi, per fare qualcosa. Ecco, ho difficoltà, perché lì veramente come dici tu, penso di aver potuto trasportare sulle pagine un po' di quello che è il mio essere. È vero. E a proposito adesso devo farti una citazione. Vai. Non più di una settimana fa è stato, diciamo, diffuso un video che riporta la lettera di Einstein che scrisse a sua figlia. In questa lettera, penso, Elena, Einstein disse, diceva alla figlia, carissima, io ho scoperto molte cose della vita, della fisica, della scienza, di tutti, però muoio senza aver scoperto la forza più importante del mondo, la forza che nessuno si accorge che ci sia e che siamo invasi, che è l'amore. L'amore. L'ha scritto Einstein, adesso io ho così accennato un po' quella che... Parapratato, certo. Ma quando l'ho ascoltata, quella, diciamo, quella lettera, chi la leggeva, devo dire la verità che per me ha ragione. Quella grande forza che è l'amore, ancora la tecnica, la fisica, la scienza non è ancora riuscita a definirla. E come vedi, in quello che io ho scritto in quel libro lì, devo dire, devo riconoscere che forse è stata così una spinta d'amore che mi abbia fatto scrivere quel libro, una spinta d'amore verso una donna che ha dovuto affrontare la vita con una difficoltà in più degli altri, su come l'ha vissuta, su come è stata capace di superarsi in tutto. Ma soprattutto si è superati in tutto quando non ha mai fatto di quelle difficoltà, non ne ha mai, diciamo così, fatto un peso, ma addirittura ne faceva un vanto. È una possibilità, esatto. È una possibilità. È vero. Ma questo credo che i lettori lo potranno trovare sin da subito. Quando mi arrivò appunto la bozza, all'inizio, come descrivevo nella lettera che vi ho letto inizialmente, nelle prime 20 pagine, davvero io non riuscivo a capire quale fosse la dinamica dove volessi, perché conosco bene la scrittura di Gino, dopo diversi anni, dopo tanti romanzi che hai scritto, più o meno riconosco lo stile. Qui nelle prime 20-30 pagine mi chiedevo, sì, ok, ma quindi c'è un punto però che non svelo, altrimenti diciamo è un peccato per il lettore. C'è un punto di snodo dove non puoi fare a meno di quella protagonista. Non puoi fare a meno di seguire quella vicenda e di capire quella scintilla d'amore, quella opportunità che noi abbiamo chiamato, dove la condurrà, perché poi le pregrinazioni che farà la nostra Coimeri sono tantissime. Tra l'altro ti vorrei fare una domanda, Gino, credo che non sia stato semplice scrivere questo libro, ma alle spalle ha un corposo studio, spieghiamo un po' perché, giusto? Sì, perché come ti ho detto prima, l'ho sentito proprio come un'ispirazione, cioè un qualcosa che mi è entrato dentro, devi scrivere questo. E allora ti confesso che per scriverlo ho impiegato solo forse un terzo del tempo che ho dovuto impiegare per studiare molte cose. E ho dovuto studiare molte cose, molte cose che così sapevo per sommi capi ma ho dovuto approfondirle perché la protagonista diciamo nel percorso della vita affronta dei temi che non potevo così lasciarli alla fantasia ma dovevo concretizzarle in cose diciamo concret, studiate, reali, verificabili oltretutto perché altrimenti avrebbe perso perché un conto è scrivere solamente per uno scrittore in generale un conto è scrivere di emozione quello è qualcosa che ognuno prova e lo porta fuori in determinato modo quando vai a riscontrarti con dei romanzi dove i protagonisti hanno anche delle professioni hanno delle realtà contingenti che dobbiamo mettere nero su bianco lì poi lo scrittore diventa anche quasi uno studioso uno scienziato per poter entrare nel mondo di quella Queen Mary perché il mondo di Queen Mary non è quello di Gino Carlo Magno eppure leggendo questo libro vi sembrerà che sia così perché Gino diventa un bravissimo tecnico di quello che viene descritto non ve lo stiamo svelando perché non vi vorremmo svelare tutto però è proprio questo mi piace sottolineare con i miei scrittori quanto sia difficile e facile allo stesso tempo diventare poi i protagonisti del libro che vai a scrivere insomma sì quello Milena mi ha impegnato molto perché io sono proprio all'antitesi di quello che è la professione per il percorso di vita che ho fatto ero in un altro in tutt'altro settore ma ecco questo mi ha dato però anche un altro stimolo anche in quello che scriverò in futuro vorrò andare sempre a fondo sulle cose cioè non mi vorrò limitare solo a scrivere il romanzo beh diciamo che questa è una tua caratteristica se penso pure la pietra che non affonda un libro precedente comunque hai affrontato temi di attualità o anche l'ultimo sugli immigrati uno Dixon comunque sono titoli dove hai dovuto prima di scrivere incamerare una serie di informazioni nozioni che ci circondano derivanti dalla realtà quindi non è semplice poi trascriverle all'interno di una storia Gino ci vorresti leggere qualcosa che ci faccia un po' entrare nella vita e nella protagonista guarda direi di leggere poche righe sì per incuriosire così l'infanzia di questa protagonista per dare un senso di dove è cresciuta di chi poteva essere la sua famiglia senza si muove molto leggo solo poche righe poche righe di una una richiesta fatta al suo papà e quale della richiesta il papà fu felice ed entusiasta però volle che riflettesse su un punto molto importante per prima cosa dobbiamo chiedere ai genitori di Roberto se sono d'accordo e contenti che il loro figliolo venga a imparare a tuffarsi insieme a te adesso è l'ora del pranzo non è buona l'educazione disturbare le persone più tardi nel pomeriggio andremo a casa del tuo amichetto e parleremo della cosa con i suoi genitori cioè qui cosa succede è che Regina Maria aveva circa sei anni di conseguenza scusate il papà così con entusiasmo la portava al mare per insegnarlo a nuotare però lei avrebbe avuto piacere condividere questa gioia di imparare a nuotare con un amichetto che aveva ma il papà gli fa capire che la richiesta era sicuramente degna generosa altruista ma che bisognava dargli i tempi giusti cioè non si può andare a casa delle persone che stanno pranzando per andare a esporre o in Puglia questo è un aspetto proprio sacrocanto diciamo un po' dappertutto per andare a esporre così un desiderio che allora la invita con la giusta educazione di un padre a riflettere ci andremo più tardi dopo pranzo quando non sarà un disturbo andare a trovare queste persone e questo fa capire questa famiglia come nasce come questa ragazzina vive la sua giovinezza la sua infanzia la giovinezza e che sicuramente è la porta che le apre poi il cuore le apre poi la capacità di non recriminare sulle sue condizioni ma anzi di essere addirittura lei la forza per gli altri infatti hai scelto un passo molto breve tra l'altro dove non parla di lei ma ci aiuta a comprendere come lei ha forgiato il suo carattere in un certo contesto dove i valori dove l'istruzione dove il buon senso il buon vivere la fanno da padrona pertanto lei quando poi sarà donna adulta non potrà fare a meno di tutto quel bagaglio che i genitori e la famiglia dove è cresciuta l'hanno portata ad essere quella che è insomma mentre stiamo chiacchierando vorrei ricordare a tutti coloro che ci stanno ascoltando che se hanno delle curiosità da chiedere a Gino qualche commento vedo già che ne stanno arrivando alcuni però se avete qualcosa da chiederlo fra qualche minuto poi li leggeremo con Gino in modo tale che potrà rispondervi o magari solamente leggerli insieme a voi insomma quindi già di questo vi ringrazio senti Gino quando vorrei chiederti una questione che va al di là del libro Queen Mary cosa ti spinge a scrivere perché hai scelto questo come strumento di comunicazione soprattutto se è uno strumento cioè se la scrittura ti ha accompagnato sin da quando eri più giovane si può dire o diciamo da sempre o è una cosa che hai maturato col tempo diciamo che a me è sempre piaciuto scrivere tu sai che io ho un motto realizzare un sogno lasciare un segno e questo non lo so quale sarà il segno che lascio il sogno lo sto realizzando grazie a voi chiaramente agli amici il segno che lascerò non lo so però ecco adesso voglio fare un po' di ironia dico sempre che io da giovane molti anni fa molti anni fa quando ero giovane lo stai dicendo tu eh io no scrivevo scrivevo le lettere alla fidanzata come tu oh che bello mi hanno lasciato tutte ecco per potermi sposare mi lega ti garantisco non ho scritto mai una lettera a mia moglie se non dopo che mi aveva sposato no queste vabbè adesso sono sono battute diciamo che mi sono trovato anche a fare il poliziotto lo racconto nella mia vita e e mi sono trovato giovane a 19 20 anni sono in una città grandissima come Roma lontano da casa o meno di dove sei forse non tutti lo sanno vuoi dirlo di dove sei sì sì io sono di un piccolo paese della Lucania in provincia di Potenza che si trova tra Lago Negro e Lauria si affaccia sul tirreno c'è una zona bellissima di Maratea però sono di quella terra che per il 99% sono montagne e sono diciamo è una terra dico molto arida nei frutti e molto dura nella zappa veramente il sudore dei miei genitori dei miei nonni era il pane quotidiano poi mi sono trasferita a Biella dove vivo dove siamo stati accolti molto bene ci siamo inseriti molto bene abbiamo creato delle aziende abbiamo avuto varie vicissitudini ma quello che ti dicevo quando mi sono trovato a 20 anni con una divisa anche impegnativa perché a ripollegiotto era e la sera quando mi stendevo sulla branda i pensieri erano tanti e alcuni cominciavo a scrivere le mettevo scrivevo delle lettere alla mia mamma la mia mamma le leggeva ai vicini di casa e mi dicono che le lacrime abbondavano dappertutto perché poi ero anche abbastanza è sempre stata una scrittura emotiva la tua come lo sei tu nella vinta insomma cercavo di mettersi quei sentimenti quelle cose che magari alla mamma non gliele avevo mai dette mentre tutti i giorni quando ci accudiva perché la nostra famiglia tre fratelli più papà la mamma era un perno fondamentale certo però sai quanto tu sei nel nel correre della vita ti dimentichi di dirgli ti voglio bene è vero è vero e allora glielo scrivevo e questo diciamo così faceva molto bene alla mia mamma ma faceva anche tanto bene a me è vero è vero ecco perché mi piace scrivere mi piace anche prima di salutarci vorrei farti un'ultima domanda secondo te perché i lettori dovrebbero leggere Queen Mary con una frase secondo te perché io intanto faccio vedere la copertina che non avevo ancora mostrato un bellissimo scorcio di Otranto e della baia dei mulini d'acqua di cui parlavamo prima nella mia amata Puglia insomma sì perché perché potrebbero provare l'emozione che ho provato io a scriverlo per esempio potrebbero attraverso quello che c'è scritto in quel libro capire chi sono io capire chi è la nostra protagonista e capire anche molto di persone molto importanti che ci circondano che hanno dei sentimenti che magari non sono espressi cioè non so se posso dirlo ma io cito anche dei personaggi scienziati famosi cito dei premi Nobel che mi hanno ispirato anche in questa scrittura cioè con la loro vita infatti il bello è che li vai ad intersecare facilmente cioè nel testo il peso di questi personaggi reali parliamo appunto di premi Nobel non risultano essere un cameo un ostacolo un qualcosa messo lì un macigno per il lettore ma invece si vanno ad intersecare benissimo nella storia questa è stata una grande maestria in questo racconto allora devo dire la verità alcuni ho avuto anche il piacere di conoscere per la gente è il che diciamo così quanto tu senti che la persona che hai davanti pur essendo un grandissimo scienziato premio Nobel di genere ti si approccia in quella maniera di semplicità e allora non puoi che non condividere alcuni aspetti alcune cose non puoi che trarre da queste persone una linfa che ti permette anche di poter scrivere quello mi lasci leggere due righe di più avanti come no vai perché abbiamo letto di quell'infanzia ma poi lei diventa adulta diventa importante nel libro lei racconta la sua vita praticamente e la racconta a un giornalista che si chiama Filippo e alla fine in un abbraccio finisce così Filippo rimase letteralmente esterefatto lasciatesi da quell'abbraccio avvertiva che qualche cosa era cambiata anche in lui vuole farsi premura di una piccola replica Maria ma tu sei veramente sicura di non correre rischi a prendere Carmelo nella tua casa chi ti dà la certezza che il vecchio rancore non riaffiori e non riarmi la mano di chi ti voleva morta potrebbe succedere ma io penso che difficilmente chi stava sprofondando nell'inferno dimentica la mano che la tratti in sangue e anche se succedesse ecco questa bellissima domanda ai nostri lettori questo è il pensiero di Maria cioè Maria ha capito dopo tante vicissitudine che con l'amore si riesce a cambiare anche le persone che magari inizialmente ti hanno fatto del male e quel male può diventare un bene enorme un bene grande ed è uno dei pensieri che poi nel libro c'è anche la potenza dell'amore che nessuno di noi è in grado di definire perché è indefinibile che può trasformare le persone può trasformarle in un modo incredibile e inaspettato è verissimo prima di salutarci voglio leggere anche i commenti dei nostri ascoltatori in modo tale che se c'è qualche domanda li leggiamo insieme la nostra amica Amalia dice ciao a tutti oggi un autore davvero bravo nonché con una evidente simpatia una lettrice Valentina dice ho letto Queen Mary tutto d'un fiato un romanzo intrigante e coinvolgente che mi ha appassionato sin dalle prime righe grazie per la bella lettura e complimenti il nostro carissimo amico Pierpaolo invece dice è una gioia ritrovare Gino Carlo Magno uno scrittore politico e fecondo dalla penna scorrevole allo stesso tempo minuziosa e riflessiva proprio quello di cui parlavamo prima le tante indagini di Gregori diventano nel tempo ispezioni dell'animo di ognuno di noi ho potuto conoscere l'autore confermo che anche umanamente è una persona splendida Assunta dice è vero il libro rispecchia l'autore invece Claudia muscolino che ancora non aveva letto il libro evidentemente dice che piacere rivedere Gino mi incuriosisce il tema di questo nuovo romanzo buongiorno a tutti voi da parte di Domenico e infine Paola Cimmino ci dice Gino ha una dolcezza nell'esporre molto rassicurante mette a proprio agio chi ascolta bella anche la sua autoironia la nostra amica Ornella dice ciao Gino bravissimo come sempre complimenti e la nostra amica Angela infine complimenti piacevolissima pausa caffè infatti il nostro nap coffee book per molti è diventato il nap coffee break stiamo un po' assumendo questo slogan che ci fa piacere ridirlo insomma non posso che abbracciarli tutti infatti guarda leggo l'ultimo in calcio d'angolo che è arrivato adesso grazie Gino con le tue parole ci hai trasmesso emozioni e la passione per la scrittura leggerò presto il tuo libro Antonella benissimo io vorrei ringraziarti Gino perché Antonella un bacio all'Antonella eh certo vorrei ringraziarti perché con te è sempre un'emozione sicuramente ma l'emozione più grande è quella che riusciamo io mi faccio piccolissimo strumento ovviamente più lo fai tu a comunicare agli altri attraverso i tuoi libri benché siano abbiamo detto la maggior parte dei polizieschi non sono mai letture banali e scontate c'è sempre un messaggio dietro c'è sempre quella fede che alimenta ogni pagina dei tuoi libri e quindi c'è un po' di te dietro ogni libro io ti ringrazio tantissimo do l'appuntamento a tutti i nostri ascoltatori e lettori a martedì prossimo al nostro Net Coffee Book che è la quinta puntata un saluto a te Gino non so se vuoi salutare anche i nostri lettori certamente ai lettori grazie a chi ha avuto la bontà di scrivere qualche messaggio le ringrazio di cuore mi piacerebbe conoscerli tutti di persona ma forse non sarà possibile chissà forse ad un prossimo evento fieristico magari riusciremo io però devo ringraziare te Milena assolutamente la NEP per la professionalità per la capacità voi avete preso per mano una persona che non aveva sicuramente nessuna capacità di scrivere io sono diventato come dici tu come dicono quelle per la gran carità non voglio mettere le mani avanti un po' quello che sono diventato è stato il fatto che voi mi avete preso per mano mi avete saputo portare anche anche a modificare un po' quello che poteva essere il mio inizio da scrittore ecco spero di poter continuare per i prossimi 150 anni assolutamente poi perché sarà sarà grazie grazie moltissimo davvero per chi non ha ancora letto e acquistato il libro il libro è disponibile sul nostro sito neppedizioni.com oltre che in tutti gli store online è ordinabile in tutte le librerie come tutti i nostri libri in catalogo grazie a tutti e buon pomeriggio buon caffè ciao Gino a tutti ciao